Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi vi faccio vedere come si aggiorna il firmware del vostro volante Trustmaster. Occhio ragazzi perché è un'operazione delicata, seguite passo passo quello che vi dico e se non siete sicuri c'è comunque sul sito ufficiale la guida passo passo in formato pdf. Quindi prima cosa da fare è andare sulle proprietà delle periferiche di gioco e selezionare il vostro volante e quindi fare proprietà. Normalmente questo pannello di controllo è uguale per tutti i Trustmaster se non sbaglio. Quindi qui sulla destra ci ritroviamo la versione del nostro firmware e dei driver più il numero seriale del vostro volante. E inoltre il package dei driver installati io l'ho ovviamente aggiornato mi manca da fare il firmware perché lo voglio fare in live con voi. Quindi prima cosa da fare è vedere e verificare se ci sono aggiornamenti quindi basta cliccare su verifica aggiornamenti qui ci chiede se vogliamo appunto aggiornare e qui mi dice la versione è già aggiornata. Parliamo del driver. Se dovesse darvi problemi con downloader non dovesse funzionare nessun problema chiudete qua e chiudete qua e andate sul sito ufficiale della Trustmaster come ho fatto io andate sul supporto e quindi andate selezionate il vostro volante e arriverete nella sessione download in questa pagina qui. Qui basta andare a scaricare i driver e nell'ultimo c'è sia i driver aggiornati appunto del software che gestisce la periferica e anche il firmware come vedete qui. Lo scaricate installate vi chiederà la prima volta di disinstallare la vecchia versione la disinstallate quindi poi mi sembra perché me l'ha fatto a me me l'ha chiesto così ho dovuto rieseguire di nuovo l'installazione appunto del pannello di controllo della Trustmaster e a questo punto siete pronti per fare l'aggiornamento del firmware. Prima di cominciare però sul su questo sito qui quindi del supporto della Trustmaster c'è il manuale ci sono tutti i manuali del vostro volante e in più nella sessione firmware esiste anche la procedura di come fare in tutte le lingue quindi se andate su in italiano qui in base alla versione il vostro window andate a seguire passo passo. io ve lo faccio vedere basta andare su start programmi cercate Trustmaster qui e quindi aggiorna firmware qui dice vuoi aggiornare il firmware? Sì quindi si dovrebbe aprire una scheda e come vedete qui mi dice che il mio device è aggiornato alla versione 25 e mi dice attenzione stiamo per aggiornarlo alla versione 28 quindi mi dice vogliate selezionare la periferica eccetera eccetera siccome ne abbiamo una sola quando siete pronti fate ok quindi facciamo ok e come vedete passa alla costruzione o meglio l'aggiornamento del firmware principale al volante quindi in questo momento lo sta installando quindi se tutto va bene comparire le spunte e il volante si autocentra come state sentendo in questo momento quindi per andare a verificare che tutto è a posto basta poi fare ok qui chiudete non rifate ok perché altrimenti vi rifà l'aggiornamento ma come vedete già da qua si vede che la versione riconosciuta del mio firmware adesso è la 28 e se torno nel pannello di configurazione e faccio proprietà il mio firmware è il 28 quindi ragazzi spero che sia stata abbastanza chiara questa guida questo tutorial di come aggiornare il firmware e i driver del vostro trust master se avete dubbi perplessità non siete sicuri prima di eseguire non esitate chiedete a qualcuno oppure direttamente al supporto della trust master e perché no lasciatemi un commento qui sotto in video cercherò di darvi una mano ragazzi fate molta abbiate molta cautela a fare questa operazione se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su un commento e se non l'avete già fatto ragazzi iscrivetevi tanto è gratuito ci vediamo al prossimo video da Fabris e tutto alla prossima ciao ciao